La Polizia di Stato di Gela ha tratto in arresto un 65enne nella flagranza di reato di detenzione di cocaina e hashish. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, insospettiti da un particolare e insolito movimento di persone, le quali reiteratamente accedevano nell'abitazione dell'uomo, hanno proceduto all'esecuzione della perquisizione presso l'abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare, seguita dai poliziotti della squadra investigativa, sarebbero state rinvenute nella disponibilità dell'uomo e contestualmente sottoposta a sequestro, complessivamente circa 20 grammi di cocaina e dell'hashish. Il ritrovamento delle sostanze stupefacenti ha determinato l'arresto dell'uomo e a seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Gela, il giudice per le indagini preliminari, ritenendo sussistenti i presupposti, ha convalidato la misura cautelare e il sequestro della droga. Sono in corso altri accertamenti da parte delle forze dell'ordine che mantengono alta l'attenzione nei confronti del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. In precedenza, una vasta operazione antidroga, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, ha portato all'arresto di 10 persone, mentre altre due si sono rese irreperibili, accusate di associazione per delinquere, finalizzata appunto al traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine è scaturita dall'arresto in flagranza di uno dei presunti capi nell'ottobre del 2021, trovato in possesso di 4 kg di marijuana. L'organizzazione, dedita al traffico di stupefacenti, marijuana, cocaina e hashish, operava nel comune nisseno di Riesi. Nel corso delle indagini, in quell'occasione, svolte dai carabinieri e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sono state ricostruite tutte le fasi dell'attività illecita, dall'approvvigionamento dello stupefacente nella piazza di Gela allo smercio al dettaglio nel centro di Riesi. In particolare, il presunto capo dell'organizzazione, un uomo di 35 anni con precedenti specifici, avrebbe continuato a impartire direttiva agli affiliati anche dopo il suo arresto.